Adalzato! La differenza dei cammini e gli infami non credono più in una vita migliore. Queste sono dei corosi. Raso affronto! La differenza dei cammini e gli infami. 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 E' un bel bersaglio di alto profondo. Spediscilo all'inferno. Portale pronto. Vai a salutare. Reato oggetto verso il lato avversario. Con le abbe tornate. Va bene. Anche l'altra squadra. Nemici in arrivo in zona comando. Anche l'altra squadra. Anche l'altra squadra. Nemici in arrivo in zona comando. Il portale è aperto. Puoi aguardarli meglio. Qualcun rotto si dirige dal lato avversario. Il portale è pronto. Nemici in arrivo a la piattaforma. Il portale è pronto. Il portale è pronto. Buona caccia. Io sc included... Il portale è pronto. Il portale èuto un'ammag надegge. Vuoni Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.